Ebbene, nella terapia di alcune forme di dolore cronico, come quelle osteoarticolari e neurologiche, i farmaci antifiammatori steroidei sono di grande aiuto. Come tutti i farmaci, anche essi sono gravati da effetti collaterali e da rischi. E quindi richiedono sia un corretto uso e sia un continuo controllo del paziente a cui prescriviamo questi farmaci. Sappiamo che nei processi infiammatori cronici, quelli di lunga durata, sono più indicati i farmaci steroidei di quelli non steroidei, un po' perché il processo infiammatorio è sostenuto più che dalle prostagrandine, è sostenuto più da citochine. E quindi direi che di fronte all'anamnesi e alla storia di un paziente dobbiamo fare alcune scelte importanti. Non abbiamo altre, molte altre scelte. Nelle forme infiammatorio che colpiscono le radici, i nervi. Chi di voi non dà un cortico steroide o uno steroide in una sciatica? Ricordiamo però che anch'essi vanno sempre utilizzati per contesto di una terapia cosiddetta combinata, perché non esiste un farmaco miracoloso. Esistono però delle scelte farmacologiche opportune che, combinate tra di loro, danno delle grosse soddisfazioni.